Buongiorno dal Tg della mobilità, da oggi al 17 aprile per interventi di potatura in viale delle milizie i tram della linea 19 nei giorni feriali limiteranno le corse a Valle Giulia e poi saranno sostituiti da bus navetta sino a piazza risorgimento tra le 7 e le 18 saranno poi deviate le linee bus 70, 490 e 590, 913, 982 e 990. Controllo elettronico delle corsie preferenziali, da oggi si riaccende la telecamera su Viale Regina Margherita all'altezza di via Adda, sarà in funzione tutti i giorni, 24 ore su 24 l'altra telecamera che è sempre rimasta in funzione si trova all'altezza di via Nizza. Da domani il Lazio di nuovo in zona arancione ma solo per pochi giorni dal 3 al 5 aprile tutta l'Italia per Pasqua torna in zona rossa. Da domani dunque nel Lazio spostamenti consentiti solo all'interno del proprio comune dal quale però non si potrà uscire. Si torna a scuola sino alla terza media, restano chiusi bar e ristoranti tranne per l'asporto e la consegna a domicilio, riaprono i negozi. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti nelle prossime edizioni del mattino del Tg della Mobilità.